Siete in tanti a lavorare e a faticare per questi runners, per la Prosecco Run. È un impegno gravoso, ma immagino anche più di soddisfazione. È assolutamente pieno di soddisfazioni perché vedere così tante persone che partecipano ad un evento di un paese piccolo è veramente un grande privilegio e una grande soddisfazione. Per noi in cucina è una bella sfida, con oltre 2400 iscritti e speriamo che mangino tutti qui da noi, è sicuramente qualcosa di impegnativo, sfidante, ma di una soddisfazione incredibile. Quanti volontari siete? La Proloquo di solito ha un centinaio di collaboratori che si danno il turno a seconda dei vari eventi. Oggi, essendoci così tanta gente, siamo quasi tutti.